Ciao a tutti amici Sopils e benvenuti a questa nuova puntata, puntata dedicata alla recensione dell'Asiair e del suo corrispettivo focheggiatore, sempre della ZVO e AF. Innanzitutto fatemi ringraziare come sempre Marco di Astrottica che mi ha fatto pervenire questi due dispositivi da testare con il mio setup e vi dirò un po' com'è andata. Parleremo a grandi linee di come si sono comportati questi due dispositivi, come li ho utilizzati nel mio workflow, quali sono i pro e quali sono i contro. Innanzitutto cominciamo con il parlare della C-Air Pro. La C-Air Pro che è andata a rimpiazzare la C-Air, quello con la scatolina bianca, non so se ce l'avete presente, è a tutti gli effetti un vero e proprio computer. Sostanzialmente da quello che ho capito e vedendo anche l'architettura dell'hardware e della conformazione della scatola, sembrerebbe essere un Raspberry P4 con una build customizzata di Linux e con un sistema operativo suo basato su Linux che espone tutte le funzionalità per gestire dispositivi di casa ZVO. Difatti la C-Air funziona con tutte le periferiche della ASI, camere, focheggiatori, ruote portafiltri ed inoltre anche con camere reflex, Nikon e Canon. In basso in descrizione vi lascio un link alle camere supportate o che perlomeno la ZVO ha testato con questo sistema ma ad ogni modo queste reflex di casa Nikon e Canon sono sulla carta e anche in pratica ho fatto i test con la mia Nikon D750 supportate da questo dispositivo ma per la compatibilità piena vi rimando comunque al link in descrizione. Come potete vedere la C-Air Pro è molto piccolo e compatto e anche molto leggero. Ha delle porte USB su questo lato, ha due porte USB 3 e due porte USB 2 e ha l'ingresso anche per un cavo Ethernet per la connessione di rete. Connessione di rete per cui la C-Air è predisposto con connessione wifi sia 2,4 GHz che 5 GHz ma ne parleremo fra poco sulle modalità del wifi e sulla resa in termini di range di connessione. Su questo lato invece avete quattro porte in uscita in output 12V e queste sono comodissime perché devo dire che la cosa che mi è piaciuta molto di più della C-Air e che ha portato a un'evoluzione del mio setup e vi racconterò alla fine di questo video è il fatto di avere queste porte in output e una sola porta in ingresso. Difatti la C-Air prende fino a 10A di assorbimento in 12V e ha quattro porte le quali possono arrivare massimo a 3A l'una però sempre per un totale ragazzi di 10A non potete arrivare a 12A. Arrivare a 12A mi sembra un po' difficile almeno che voi non colleghiate delle periferiche con altissimo assorbimento però per quanto riguarda il mio setup io ho una ASI 16GT, una ASI 290 Mini MM, fascia anticondensa, focheggiatore EAF che ho utilizzato in congiunzione con questo e la montatura, la mia Q6 Pro, l'assorbimento medio parliamo di 2 barra massimo 3A quindi non so arrivare a 12A di assorbimento totale che cose ci potreste collegare. Inoltre c'è anche l'attacco per le reflex ma attenzione perché questo è l'attacco jack per lo scatto remoto non è il collegamento che voi utilizzate normalmente con le Nikon collegano e che potete utilizzare con il cavo USB è un altro tipo di attacco ancora quindi le reflex le potete collegare sia qui che qui quindi in sostanza questa qui è la porta per lo scatto remoto. Infine avete il semplicissimo interruttore qui per accenderlo e spegnerlo, avete dei led che vi identificano lo stato della Sierra se ci sono errori con la lettura della card perché ha una card mini SD che vedete qui in alto dove c'è il sistema operativo di Casasi e una cosa che vi consiglio ma non perché questo sia colpa della della Sierra in generale anche con il Raspberry io li uso dal punto di vista lavorativo e queste SD per quanto possano essere buone questa è una sandisk comunque di un ottimo marchio tendono a corrompersi abbastanza facilmente. Corrompersi vuol dire che a un certo punto non funzionerà più niente nel senso che non non si avvierà la Sierra perché essendosi corrotta la SD dovrete riflessare il firmware e il software della Sierra qui sopra quindi quello che vi consiglio io invece di andare a riscaricare ogni volta e rifare questa procedura di flash è quello che faccio anche con il mio Raspberry utilizzo un qualsiasi strumento di qualsiasi clone tool per lsd mi faccio un'immagine dopodiché ce la risparo in pochissimi secondi se mi dovesse succedere anche quando sono lì all'osservatorio quindi questo è un primo consiglio pratico e vi do in linea generale con questo dispositivo ripeto non è colpa della Sierra sono proprio queste SD e i Raspberry che sono inclini a questo genere di problemi. L'interfaccia di Sierra si presenta in maniera abbastanza compatta semplice e anche abbastanza funzionale devo dire dal punto di vista di user experience alcune cose sono un po' nascoste e all'inizio può richiedere la aiuto di qualcuno che già ci ha lavorato oppure guardare qualche tutorial per capire le funzionalità alcune funzionalità che sono un po' nascoste ma questo spezza una lancia diciamo a favore della ZVA perché condensare in così poco spazio su schermo un'interfaccia così complessa sicuramente non è facile. Innanzitutto avete il menu di configurazione dove potete andare a settare tutte le periferiche e tutti i dispositivi che avete collegato quindi avete quello della camera dove potrete regolare il cooling, il tipo di binning, avrete quello della rota portafiltri dove poter impostare i filtri che stai utilizzando se avete una rota portafiltri collegata ovviamente. Stessa cosa varie per il focheggiatore avete la possibilità di configurare il fine, il coarse size degli step quindi la regolazione di fino, la regolazione diciamo un po' più grossolana. Avete anche la possibilità di gestire, questa è una cosa molto importante soprattutto se il LEAF è provvisto di sensore della temperatura di gestire lato focus al cambio della temperatura perché come dovreste sapere al cambio della temperatura ovviamente le ottiche possono subire un cambio del punto di fuoco ed è importante ricontrollare la messa a fuoco solitamente io la faccio ogni grado di cambio temperatura però dipende molto dal setup ottico che utilizzate perché ovviamente più è sensibile a questo genere di dilatazioni o contrazioni e più dovete essere attenti con questa cosa del fuoco, della messa a fuoco. Inoltre c'è la possibilità ovviamente di collegare la vostra montatura, io l'ho utilizzata con la mia EQ6 Pro senza problemi, la lista di montature supportate è molto molto ampia e lunga e potete utilizzarlo anche se vi devo dire io personalmente non ci sono riuscito, ho avuto dei problemi con Sky Safari, Sky Safari è un software per Android e credo anche per iOS io l'ho utilizzato su Android che sostanzialmente vi permette di avere un planetario tascabile e puntare oggetti del cielo comunicando con ASI Air, con il software ASI Air che avete installato sul telefono o sul tablet però io onestamente non ci sono riuscito, mi vergogno anche a dirlo perché sono informatico probabilmente uno dirà mamma mia sei proprio una capra informatica probabilmente sì non lo so ma mi sono impazzito una sera sono stato anche con il mio caro amico Alessandro Rapino che è stato con me e che saluto, no tra l'altro non siamo parenti, molti ce lo chiedono se siamo cugini, fratelli, abitiamo 100 metri uno dall'altro ma ci siamo conosciuti solamente l'estate scorsa e non siamo assolutamente parenti, comunque Alessandro mi ha affiancato visto che lui è possessore della Sier, della generazione precedente e abbiamo fatto anche una piccola comparazione ci sono alcune cose sicuramente sono nuove a livello anche di performance, c'è un Raspberry di performance superiori e a livello di funzionalità da quello che mi è sembrato di capire parlando anche con Alessandro è la questione del autofocus, autofocus che non so se è già stato portato anche sulla vecchia generazione di Asier ma su questo è in funzione e funziona anche molto bene. Infatti andando un po' più sul pratico perché non voglio che questo video sia un tutorial su come utilizzare l'Asier Pro eventualmente ne faremo un altro dedicato, vi voglio parlare un po' delle impressioni in generale delle funzionalità che offre questo dispositivo. La cosa che mi ha colpito, vi ho detto già dall'inizio, è l'immediatezza d'uso. Nel senso io ho collegato tutto quanto, ho collegato la mia 12 volt qui, le periferiche tra output 12 volt e usb, l'ho acceso e sono partito in pochissimo tempo. La prima cosa che ho fatto è stata quella di voler testare l'autofocus con l'EAF. l'EAF che è il motore di focusing della ZW che personalmente, poi ho parlato con Marco Rico di Astrotti che gli ho detto che ero interessato ad acquistarlo perché mi ha colpito e quindi vi dico la mia opinione personale, per me è un ottimo motore per il rapporto qualità-prezzo che ha e quindi lo terrò. Invece la CR vi dirò poi alla fine se lo terrò o meno e perché. Per quanto riguarda il motore dell'EAF, l'ho installato sul mio Explore Scientific, il 102, il tripletto apocromatico. In installazione devo dire che è stata abbastanza semplice perché sulla parte posteriore è bastato togliere le quattro viti che ci sono di default, togliere la vite che stringe il focheggiatore e appoggiare la barra che arriva in dotazione con l'EAF. Poi l'EAF ha una barra L regolabile per l'altezza del focheggiatore, togliete la manopola del focheggiatore, la manopola non dal lato dove si trova la micrometrica ma dall'altro lato, inserite il perno che viene fuori all'interno del pignone dell'EAF e questo farà sì che il controllo avverrà solo ed esclusivamente attraverso il motore. Ovviamente da quel momento in poi non potete più utilizzare la manopola perché questa viene bloccata dal motore NEMA 12, credo NEMA 12 o NEMA 17 ma penso NEMA 12 dell'EAF. La prima cosa che mi ha colpito sicuramente l'EAF è la capacità e la precisione con la quale fa la messa al fuoco perché fa degli step davvero molto molto piccoli, sono praticamente invisibili all'occhio umano però fanno la differenza soprattutto quando siete alte focali. Probabilmente non è il mio caso ma ad esempio se fossi a un metro e mezzo o due metri di focale sono sicuro che si comporterebbe più che egregiamente. L'EAF che mi è stato dato in dotazione ha un sensore a temperatura ed è una figata pazzesca perché sia con Asier Pro e sia poi l'ho utilizzato anche con SGP le routine di autofocus con il cambio da temperatura ragazzi sono un ulteriore automatismo che se voi non siete a casa come come faccio io perché non ho l'osservatorio a casa non ancora perché a inizio anno nuovo mi trasferirò vicinissimo al mio osservatorio diciamo a distanza di 10 metri sarò di rimpettaio il mio osservatorio quindi forse un po' cambieranno le cose però quando non siete davanti alla vostra strumentazione e volete automatizzare il tutto deve funzionare assolutamente bene perché se qualcosa va assorto ritornare lì accedere fisicamente alla struttura e rimettere tutto in moto potrebbe farvi perdere tempo prezioso. Invece con l'EAF devo dire che finora non ha sbagliato un colpo sia nella messa a fuoco sia e soprattutto la cosa che mi preoccupava di più sulla tenuta del fuoco anche quando ho avuto oggetti puntati in alto allo zenith beh devo dire che ha tenuto benissimo la messa a fuoco uno si aspetterebbe o si potrebbe aspettare un leggerissimo slittamento che anche se è impercettibile di frazioni di millimetro può giocare brutti scherzi invece ragazzi una volta che voi l'avete inserito è qualcosa di fenomenale quindi sicuramente l'EAF ve lo straconsiglio se volete un focheggiatore che abbia un buon rapporto qualità prezzo però fate bene attenzione che questo possa essere montato sul vostro focheggiatore su questo dovrete informarvi studiando bene la scheda dell'EAF eventualmente chiedendo anche al venditore o comunque studiando un po' come è costruito il vostro focheggiatore se ci sono punti per collegarlo in maniera agevole e funzionale quindi per il mio ha funzionato molto bene quindi se siete possessori di un Explorer Scientific 102 tripletto vi dico andate tranquilli perché funziona alla grandissima come dicevo una delle feature più interessanti che ha messo in campo la ZVO è l'autofocus l'autofocus funziona davvero molto molto bene come funziona alla stregua di SGP di Sequence Generator Pro non so se l'avete provato fate una messa a fuoco diciamo abbastanza precisa del vostro campo inquadrato dopodiché fate partire l'autofocus l'autofocus in base allo step size che voi li avete definito in fine e course quello che andrà a fare lui sarà di sfocare la vostra immagine le vostre stelle fino a raggiungere un valore indicativo di hfr di tra le due e le tre volte il valore di hfr ottimale e poi a piccoli step creerà la classica v-curve che è classica proprio dei sistemi di autofocus ovvero va dalla parte più fuori fuoco dal valore di hfr fuori fuoco poi man mano si va ad avvicinare al punto più basso la curva dove l'hfr scende e quindi ci avviciniamo al punto di fuoco ideale dopodiché a un certo punto cambierà perché ci stiamo muovendo tra intra focus e extra focus e quando andremo ovviamente fuori fuoco nuovamente superato il punto di messa a fuoco ottimale lui arrivato nuovamente a un valore di 23 volte il valore messa a fuoco ottimale da lì con quei punti calcolati accumulati fino a quel momento calcolerà il punto di messa a fuoco ideale per valore intendo il valore dell'encoder assoluto che si trova all'interno dell'eaf perché l'eaf ovviamente all'interno ha un encoder assoluto quindi sa sempre la posizione dove si si trova e anche se voi lo spegnete lo riaccendete avete la il punto di fuoco dell'ultima volta quindi memorizza ecco l'informazione del della posizione del motore e lo fa in maniera permanente e questa è una cosa molto comoda perché io vengo da un focheggiatore autocostruito con arduino quello ogni volta che io lo spengo lo riaccendo non ha un encoder assoluto e quindi non memorizza quell'informazione quindi diciamo che scomodo perché ogni volta va rifatta la messa a fuoco e comunque non si parte mai dallo stesso punto è molto più scomoda e macchinosa come cosa a gestire altro tool che mi è piaciuto molto che ho trovato all'interno della seer pro è quello per il polar alignment per il polar alignment la seer pro funziona molto molto bene e devo dire che a tutti i livelli è pari a quello di sharp cap se non forse vi azzardo un pizzico 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 superiore perché perlomeno da quello che ho visto io la risoluzione il solving del campo inquadrato funziona meglio rispetto a sharp cap sharp a volte fa un po i capecci soprattutto se siamo subito dopo il tramonto che non ancora siamo arrivati al buio totale invece la seer pro problemi di solving a quel livello non li ha avuti sostanzialmente funziona allo stesso modo vi fa inquadrare il north celestial pole dove vi dice come muovere le manopole altazimutali fate la regolazione e man mano che vi avvicinate c'è una faccina sorridente triste o con espressione inoltre quando la faccina sorride vuol dire che siete arrivati nel range ottimale di allineamento polare anche se poi potete continuarlo a migliorare e devo dire che non mi ha mai richiesto più di 12 minuti farlo già dalla prima volta non ho avuto assolutamente problemi è molto intuitivo molto semplice quindi un super punto a favore di questa cosa qui per quanto riguarda la guida invece utilizza phd 2 anche se lì è una versione custom che ha molti meno controlli rispetto a phd 2 funziona bene io l'ho provato sia con la guida con il mio telescopietto di guida che ho sopra al mio explore scientific e sia con la guida fuori asse che mi ha prestato alessandro a livello di performance di guida ho avuto lo stesso rendimento sono andate molto bene entrambe però devo dire la verità i controlli sono davvero davvero pochi avete la possibilità di far partire il loop di acquisizione di selezionare la stella far partire la calibrazione guida basta e regolare il tempo ovviamente di disposizione non avete molti altri controlli si avete potete regolare l'aggressività e dopo di che basta non potete controllare ad esempio il movimento minimo non potete controllare i valori di staresis per quanto riguarda l'ascensione retta insomma siete molto molto limitati questa cosa seppur la guida abbia funzionato molto bene e avevo letto sul gruppo di astro pills che alcune persone si lamentavano del fatto che ci fosse una guida un po troppo ballerina e che tendeva a correggere un po troppo in ascensione retta e declinazione a me personalmente non ha dato questo problema ha funzionato più che bene però devo dire che non dare il controllo di questi parametri in alcune serate particolari può essere un problema quindi diciamo che siamo un 50 e 50 tra il molto soddisfatto e per altri aspetti poco soddisfatto io se fossi la zwo aggiungerei più controlli alla parte della guida perché è una parte assolutamente fondamentale sulla quale l'utente deve avere il controllo va bene semplificare per chi è alle prime armi ma per chi non è più alle prime armi e vuole avere un controllo maggiore bisogna dargliene la possibilità quanto riguarda la parte di imaging la sier pro vi offre diverse opzioni vi offre ovviamente quella di creare delle sequenze dove voi scegliete il filtro tempo di esposizione numero di esposizioni che tipo di esposizione è light flat dark bias insomma abbastanza semplice e minimale vi permette di raggrupparle per filtro ovvero di acquisire prima tutto un filtro poi successivo e poi il successivo ancora oppure di ciclare continuamente vi permette anche di fare video quindi a una parte sua per l'acquisizione di video che però non ho avuto modo di testare e vi dà anche la possibilità di fare il live stack live stack che io personalmente non ho avuto modo di provare ma che nella community di astro pills visto che alcuni hanno provato anche con risultati abbastanza promettenti io personalmente marco non sono grande fan del live stack ma non è che abbia contro live stack nulla di personale però semplicemente preferisco il metodo di acquisizione tradizionale al live stack infine ha altre due modalità che sono le modalità probabilmente più utilizzate in fase di configurazione di setup che sono quella di preview e focus e sono rispettivamente due modalità per fare scatti di prove e vedere un po come la messa a fuoco come il campo inquadrato e invece quella focus che vi permette proprio di zoomare in una piccola regione dell'immagine e di controllare a messa a fuoco con un grafico che somiglia in per certi aspetti a quello di sharp cap sostanzialmente per ogni volta che voi fate il fuoco vi mostra il grafico se la hfr sta migliorando o peggiorando in nulla di troppo trascendentale passiamo alla connettività come vi dicevo all'inizio la connettività della sier pro funziona in due modi o in modalità diretta a 2,4 gigahertz 5 gigahertz oppure in modalità station allora parliamo della modalità diretta modalità diretta 2,4 5 gigahertz vanno utilizzati 5 gigahertz quando si vuole avere una trasmissione di banda più veloce però inversamente sia un range molto molto limitato invece 2,4 gigahertz avete un range di connettività più esteso però avete una trasmissione dati più lenta trasmissione dati che vuol dire che ad esempio quando scaricate l'anteprima dell'immagine che voi avete scattato ci impiegherà più tempo quella è la differenza più grossa che andate a notare invece con il 5 gigahertz i dati vengono caricati più velocemente però ovviamente il range come dicevo è molto più limitato range che di per sé questa probabilmente la nota più dolente della sier è molto limitato vi dico perché l'ho utilizzata sia a 2,4 gigahertz che a 5 e non è che ci si possa allontanare molto dalla sier perché la connettività diventa molto ballerina io credo credo e questa è una convinzione condivisa anche da altri utenti che la scelta del rivestimento di questo rivestimento in alluminio beh crea non pochi problemi ed interferenze perché già i raspberry hanno un chip wifi che non è proprio grandioso ma con questa scocca le cose sicuramente peggiorano allora il mio consiglio è per chi utilizza a sier è quello di limitare il direct mode solamente quando ci si trova vicino al telescopio perché se voi pensate che la connettività wifi arrivi dentro casa mi dispiace deludervi ma non succederà si scollegherà in continuazione è allora che subentra lo station mode lo station mode vi permette di collegare la sier ha un access point a un ripetitore a un router e in quel modo potrete accedere alla sier dalla vostra rete domestica questa è una cosa molto più comoda e funzionale infatti ho provato portando un router vecchio che avevo qui a casa l'ho messo lì vicino alla sier e poi mi sono mosso quel router molto più potente ovviamente come segnale wifi mi sono mosso per tutto il piano di sopra di dove si trova il mio osservatorio e lì non ho avuto problemi è stato molto più comodo e soprattutto funzionale quindi questo è un grosso consiglio che vi do ed è purtroppo uno dei nei più grandi che ha questo genere di dispositivo però diciamo che abbastanza e facilmente è girabile basta mettere un piccolo ripetitore che costa una decina una ventina di euro e già avete fatto una grossa differenza avete risolto il problema certo è che sicuramente probabilmente non si poteva fare meglio di così però qualcosina forse io l'avrei provato soprattutto a livello di scocca di piazzare il chip wifi in una posizione dove non avesse troppe interferenze quindi in sostanza il mio workflow qual è stato con questo setup setup ve lo ve lo ripeto asi aircon collegate asi 1.6 l'asi 2.9.0 viene collegata alla asi 1.6 che ha il suo hub interno quindi qui c'erano collegati asi 1.6 montatura e neanche il focheggiatore perché anche il focheggiatore era collegato alla asi 1.6 avendo tutti i collegamenti usb direttamente sul tubo quindi solo due collegamenti qui la 12 volt invece qui ho avuto sia la asi 1.6 che la mia montatura il focheggiatore che anch'esso viene alimentato 12 volt invece l'ho alimentato sempre tramite la mia 1.6 gt che ha un'uscita a 12 volt e mi è rimasto più comodo per avere tutto direttamente sul tubo anche se la siera alla fine l'ho messo come vedete da questo piccolo supporto per cercatore l'ho messo dove il cercatore è comodissimo lì non sbilancia assolutamente niente perché si potrà sbilanciare un pochino ma è abbastanza leggero insomma si bilancia con poco e devo dire che il setup è molto compatto non si hanno fili ho utilizzato un solo alimentatore della pegasus astro da 10 ampere quindi con un solo alimentatore sono riuscito a portare tutta l'energia che mi serviva e avevo solo un cavo che usciva era uno spettacolo e questa cosa qui mi ha entusiasmato l'ho provato per quello che mi ha concesso il meteo nel mese di ottobre e novembre però vi devo dire che alla fine di tutto il mio risponso finale è stato questo non lo prenderò perché non sono rimasto deluso dalla sier pro anzi in realtà se mi fosse stato regalato per un compleanno che sarei stato molto contento e sicuramente l'avrai utilizzato e sfruttato soprattutto nelle gite fuori porta perché non doversi portare un computer e avere solo un piccolo dispositivo come questo ragazzi è una figata pazzesca non ve lo nascondo ma anche a volte quando si vuole fare una prova veloce un setup veloce senza star a montare troppo montate la sier pro e partite perché non fa per me perché io personalmente preferisco avere il computer e avere il controllo su molte cose la sier ha moltissimi automatismi che funzionano anche molto molto bene almeno nei casi in cui l'ho utilizzato non ho avuto grossi problemi con tutti gli automatismi che ci sono in questo sistema però a me piace avere il controllo sgp ovviamente è un software più complesso il computer di per sé che ho qui di fronte è qualcosa di più complesso più personalizzabile ed è qualcosa che personalmente preferisco quindi se siete come me probabilmente un dispositivo del genere vi sarà stretto ma e dico ma e fate attenzione se non volete troppe rotture di scatole volete un dispositivo compatto funzionale pronto all'uso e tutto sommato ad un prezzo più che accessibile quindi concludendo se siete degli utenti soprattutto se siete alle prime armi e state cominciando avete cominciato da poco e vi state avvicinando al deep sky volete avere una soluzione o dovete ricomprare un computer apposta per fare questa roba beh prendete seriamente in considerazione la sier pro perché è un dispositivo semplice pronto all'uso immediato pratico e sinceramente gli unici difetti che ho trovato in questo dispositivo è che ha troppi automatismi quindi è molto orientato a chi non vuole troppe rotture di scatole e giustamente che cosa vuol dire quando si hanno degli automatismi se qualcosa va storto per qualsiasi motivo è difficile intervenire perché il sistema fa tutto e noi non abbiamo modo di mettere mani a nessuna parte a me non è successo però immagino che possa succedere perché nel nostro mondo di astrofotografia succede e in quel caso sinceramente sarebbero problemi parlando personalmente quindi concludendo direi che asier pro è il dispositivo ideale per chi vuole fare astrofotografia a portata di mano e in maniera molto agile e snella per la puntata di oggi ci fermiamo qui abbiamo parlato di asier pro e af due gioiellini di casa zwo il primo il mini computer basato sul raspberry su linux che funziona molto molto bene ricco di automatismi una piccola macchinetta da guerra super portatile super compatta e con una moltitudine di funzioni e invece l'af che ha un solido motore per focheggiatori sempre in casa zwo e che personalmente mi è piaciuto così tanto che alla fine l'ho comprato io per primo perché mi sono trovato benissimo e rientra perfettamente nel mio ecosistema zwo tant'è che adesso sono passato a una nuova tipologia di setup mi sono fatto ispirare la sier pro per prendere perché la cosa che mi piaciuto della sier pro è stata quella di avere tutta la cavetteria bella pulita sulla montatura di avere un cavo che uscisse verso il pc allora ho preso il pegasus astro il power box quello che ha le sia le porte usb che le porte 12 volt l'ho messo sulla montatura ho collegato tutto lì e adesso ho comunque un solo cavo ma ho il pieno controllo della situazione con sgp quindi ringrazio comunque asier pro per avermi ispirato con le sue soluzioni semplici e smart come sempre se vi è piaciuta questa puntata lasciate un mi piace se avete domande su asier pro ed ef fatele nei commenti in basso come sempre se vi piace questo canale iscrivetevi e cliccate sulla campanella in basso per ricevere le notifiche quando pubblicherò nuovi contenuti io per questa sera mi fermo qui e vi aggiungo anche che per le vacanze di natale mi fermerò una settimana dieci giorni pertanto ci rivediamo anno nuovo buone feste a tutti ragazzi buon natale e ciao